Musica Secondo te riciclare gli oggetti ci fa risparmiare o anche guadagnare? Ma secondo me ci fa sia risparmiare che guadagnare? Entrambe, si, anche guadagnare. E' abbinato, risparmiare e guadagnare è la stessa cosa. Penso che sia un risparmio. Che cosa? Beh, ci fa risparmiare perché nel riciclo c'è un guadagno sia di energia che di materiale. Si guadagna sia sull'ambiente che anche a livello economico perché si risparmiano materiali. Si guadagna nel materiale, si guadagna che il prodotto riciclato viene a costruire di meno. Ha una buona salute come ho visto in una pubblicità ultimamente.